Siamo qui con la professoressa Guida che è venuta a raccontare alla convention di Education 2.0 la sua esperienza. Io insegno in un vice scientifico una sezione con l'opzione Scienze Applicate. Avevo fatto negli anni precedenti esperienze di osservazioni del cielo notturno a occhio nudo e con telescopio grazie all'aiuto di un astrofilo locale che ci aveva prestato questo telescopio. E poi con questo progetto ho avuto l'idea di vedere che impatto e che mutamento avrebbero potuto produrre negli esiti del progetto l'utilizzo dei dispositivi mobili. Quindi mi sono chiesta ma quanta tecnologia c'è nelle tasche dei nostri studenti già pronta per essere utilizzata che noi non utilizziamo sprecando un'occasione. e magari le nostre scuole sono povere di tecnologia a volte quindi noi arranchiamo nell'ottenere gli strumenti che ci servono. Così insomma ho fatto una prima indagine e ho fatto un Google Form, ho fatto dal link un QR code, l'ho stampato, l'ho dato a tutti gli alunni e loro dovevano scoprire cosa era, come utilizzarlo. Sono riusciti a capire che potevano decodificarlo, andare al link, compilare il questionario e ho visto che una metà della classe aveva uno smartphone o un iPhone o un tablet o... hanno letto subito il codice. Sì, e anche da utilizzare poi nella didattica, insomma in questo progetto. E poi con altri iPad che erano a disposizione della scuola ho integrato questo numero di device e poi alla fine l'ultimo rimasto senza e gli ho dato il mio iPad e il mio iPhone e quindi così ce la siamo cavata. E poi niente, abbiamo organizzato prima un po' un brainstorming sulle interessi o conoscenze pregresse degli alunni sulle stelle, abbiamo fatto quindi una mappa collaborativa alla LIM, dopodiché si è organizzato quando e dove andare a osservare. E quindi è stato già, si è visto l'impatto motivante di questo progetto, i ragazzi hanno scelto una data possibile, un alunno ha offerto la terrazza della sua casa che era in un luogo poco illuminato, perché naturalmente è meglio un ruolo confinato, no? Anziché di notte l'immenso universo, insomma. E quindi niente, siamo andati a osservare queste stelle, è stato bello vedere come i ragazzi con questi dispositivi riuscivano a osservare le stelle, cioè in pratica abbiamo usato gli iPad con l'applicazione Starwalk, chi invece aveva altri dispositivi poteva utilizzare altre applicazioni gratuite, come per esempio Google Star Maps, Stellarium e altre cose, per avere una mappa del cielo. E quindi mettendo sul banco il tablet si può scorrere con le dita, il cielo si possono cercare corpi celesti, costellazioni, pianeti, satelliti artificiali, per categoria sia con la ricerca libera digitando in un campo, oppure scegliendo in un elenco e lì si visualizza sul tablet. Poi ruotandolo verso l'alto si attiva la bussola e la geolocalizzazione, per cui si ha veramente l'immagine del cielo che sia realmente davanti. E pigiando su un pulsantino di realtà aumentata si attiva anche la fotocamera, la videocamera, per cui alla visione del cielo virtuale che c'è sul tablet si sovrappone la visione del cielo reale grazie alla videocamera, per cui appunto c'è questo doppio layer che si integra, il cielo reale, le stelle reali diventano cliccabili, al clic danno tutta una serie di informazioni. Ma quindi il modello appunto è usare delle competenze e anche delle attrezzature già in possesso degli studenti per una didattica comunque diversa, che parte dall'esperienza vissuta, da un diverso tipo di apprendimento. Sì, io credo che la tecnologia sta veramente e finalmente dopo molti sforzi entrando nella scuola proprio perché dalle mani del docente passa nelle mani degli alunni. E noi secondo me non dobbiamo avere paura di utilizzare i telefonini degli studenti, tra l'altro, detto per inciso, amo molto più la didattica con gli iPhone e con gli smartphone che non con gli iPad, proprio perché sono molto maneggevoli, sempre in tasca, gli studenti tentano da sempre di utilizzarli e noi facciamo come in aereo, a teatro spegnete i telefonini, invece no, noi dobbiamo cominciare, secondo me, a guardare gli studenti stessi l'uso naturale che fanno di questi dispositivi per avere un apprendimento situato, legato quindi a una domanda autentica, a un contesto, a una situazione ora, qui, adesso. E quindi faccio gli esempi che vediamo sempre. Gli alunni dicono, non so, il mio compagno è malato, posso fare il video della sua lezione? Sì, ok. Oppure, non ho fatto in tempo, posso fotografare la lavagna? Ok. Posso mettere questo file un attimo dentro Dropbox? A casa me lo trovo? Scusi, posso fare la foto? Allora, e questo intanto è un osservare pratiche naturali. E inoltre, anche, secondo me, io almeno così ho fatto con i miei studenti, possiamo usare i telefonini. Allora io dico, sì, però dovete farlo per attività didattiche, non potete né chattare, né mandare sms, né telefonare, né fotografare qualcuno che non vuole, né andare su Facebook o Twitter. E loro hanno accettato questo. Quindi per me questa è un'educazione ad un uso corretto della tecnologia, che parte, secondo me, della competenza digitale. Certo. E quindi mi sembra che questo modello comunque di uso, per esempio, degli smartphone in classe sia applicabile in realtà a tutte le materie. È proprio trasversale, non solo nell'esperienza che lei ha avuto. Quindi sarebbe probabilmente da poter sfruttare in tutti i sensi, proprio per questo uso che gli studenti fanno naturale, che quindi apprezzano e si sentono più coinvolti. Esatto. Secondo me un errore nell'utilizzo appunto dei device mobili è quello di cercare un'attività disciplinare, di cercare una app della mia disciplina. Questo è sbagliato perché il punto di forza di queste, diciamo, delle attività che si possono fare con i device è quello finalmente di fare qualcosa che sia interdisciplinare, che sia, diciamo, globale, che dia agli alunni delle competenze generali, come appunto imparare ad imparare. Un domani loro andranno a vedere il cielo notturno, grazie a questa esperienza avranno acquisito una capacità di guardarlo e di imparare di più che gli resterà lungo l'arco della vita. Noi la ringraziamo tantissimo per il suo contributo.